Alberto Matano, la nuova gioia familiare con il marito. Sono sempre più felici insieme. Prima di raccontarti il motivo della nuova gioia familiare, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille! La famiglia di Alberto Matano si sta allargando sempre di più e un nuovo membro è arrivato nella loro casa. Il piccolo è già tra le sue braccia. Il conduttore è senza dubbio uno dei volti più amati dello spettacolo nazionale, avendo conquistato sin da subito l'attenzione del grande pubblico. Dopo varie esperienze televisive ha ottenuto la sua popolarità soprattutto grazie al programma La Vita Indiretta. Prima di questa avventura ha partecipato a diversi progetti Rai e ha condotto anche il Teguno. Oggi è felicemente sposato con Riccardo Mannino, con cui ha pronunciato il fatidico sì in presenza di Mara Venier che ha ufficiato la cerimonia. Un recentissimo scatto ha emozionato tutti i fan poiché il presentatore ha annunciato l'arrivo di un bimbo nella sua famiglia. La foto ha già ottenuto molti like. Il presentatore si sta concedendo dei meritati momenti di relax prima dell'inizio dei programmi televisivi dopo la pausa natalizia. Per l'occasione ha deciso di partire con il marito Riccardo Mannino per raggiungere i suoi cari a Napoli. Proprio il diretto interessato ha annunciato l'arrivo del nuovo e dolcissimo membro della famiglia, il figlio del suo fratello, che è da poco diventato papà di Federico. Sui social è apparsa una tenerissima foto che ritrae Matano con il nipotino. Guardando lo scatto si respira una dolcezza non indifferente e i fan hanno colto l'occasione per commentare e complimentarsi con i due genitori. Il regalo più bello è Federico con tutta la famiglia riunita, ha scritto lui nella didascalia del post. Buon Natale! Ecco, quindi, il conduttore Rai con il bambino tra le braccia mentre sorride teneramente. Numerosi sono stati i commenti dei fan che si sono detti al settimo cielo per l'arrivo di Federico, che ha sicuramente allargato la famiglia Matano. Non sono mancati gli scatti del conduttore insieme ai suoi genitori e una foto con Riccardo Mannino in piazza plebiscito a Napoli. Intanto, c'è molta attesa per i prossimi progetti lavorativi del presentatore, che presto riprenderà la vita in diretta e riserva numerose sorprese per i fan. Va detto inoltre che lui e suo marito sono sempre più felici insieme e la loro vita di coppia è forte come il primo giorno.